Salve a tutti, rappresentiamo il laboratorio collettivo che oggi inizia e inaugura i laboratori dal basso intitolati Voglio essere promosso, dedicati ad una più efficace promozione discografica nel nuovo mercato indipendente, quindi oggi incontriamo Daniele Novaga che rappresenta Serio Mood, vi parlerà a lui approfonditamente del progetto e della sua iniziativa e adesso passo la parola a Maxi di Arti. Ciao a tutti, io sono Maxi, avrete forse sentito parlare più di Domenico perché non ho io seguito Marika in questa avventura del laboratorio e vi porto sicuramente i suoi saluti, mi spiace molto di non poterci essere oggi, insomma io sono contenta che mi ha delegata perché è un tema molto affascinante e sicuramente un laboratorio molto interessante, quindi innanzitutto divertitevi perché sarà una bella cosa e imparerete molto. C'è il laboratorio dal basso, è un'iniziativa che parte, come dice il nome, dal basso, quindi dalle esigenze dei proponenti di imparare per fare meglio l'impresa. Come fare meglio l'impresa serve un approccio innovativo a un mercato che spesso troviamo anche consolidato. In questo caso un mercato indipendente, un mercato della musica, già prescince una cosa difficile, Daniele sicuramente ve lo saprà dire con più esperienza. Però è anche un ambito che sta facendo innovazione, andando un po' indietro e questa è una cosa molto interessante. Io sono cresciuta con mio padre, è un pazzo della musica, cioè vinili dappertutto, poi sono diventati cassette, poi sono diventati CD e ora torna il vinile, perché è tornato il vinile di essere un po' di moda, ma effettivamente il suono cambia, sono cose per chi è effettivamente appassionato, è una cosa diversa. Sono passata a mio padre, a mio marito, che non fa che ascoltare vinili, altre cose non sono proprio mai arrivate a casa, effettivamente è una cosa che anche voi avete messo al programma, ho visto, perché oggi chi vuole anche produrre un artista, anche artisti piccoli, anche locali, deve affrontare questo mondo che è una cosa di prima, ma che è diventato una cosa anche di Romagna, una cosa nuova, perché oggi il vinile di Disse, non è più questa cosa tonda che mette sul piatto il suono, è diventato qualcosa di un enorme valore aggiunto, perché si è reinventato. Ci sono i vinili colorati, ci sono i vinili che, non so, c'hanno quasi dentro, c'è l'ultra LP di Jack White, non so se ne avete sentito parlare, che è una cosa pazzesca, lo suonano dentro e fuori, ci sono ologrammi stampati dentro, tracce nascoste, ci vuole almeno una settimana per scoprire tutto. Quindi questo mercato, su tutti i livelli, sul mainstream, è a livello indipendente piccolo, comunque si è completamente reinventato, partendo da qualcosa che comunque esiste da anni. Oggi parliamo di radio, partiamo da questo, e anche qui c'è la radio, una cosa che, insomma, la conosciamo. E' partita come la radio, c'è proprio, no, la cosa, cioè, io sono tedesca ogni tanto, non mi vengono parole, però, cioè, dalla radio che è proprio a scendere, hai la box, arrivi all'internet, all'on demand, tutto quello che vuoi trovare lo trovi, all'improvviso puoi ascoltare la gente di Ticina, cosa fanno là in radio, io posso ascoltare la radio tedesca, se voglio quella inglese. Però Daniele ha pensato un'altra cosa ancora, quindi anche qua parliamo di inventare qualcosa in un modo nuovo, quindi di prendere una idea o un prodotto esistente e girare e vederlo da un altro lato. Cioè, mi alzo la mattina, non so, oggi fa caldo, ma la musica perché fa caldo, cioè, è un mood, no, è un umore che uno ha, devi studiare, io quando studiavo mi sono messa le cose di mettere proprio forti perché dovevi rimanere sveglia. Cioè, questa idea è affascinante perché è qualcosa che effettivamente io prima non ho mai sentito. È che io per prima, però, approfondirò adesso perché non mi nascondo che io la radio online non la uso molto, però preparandomi a questo incontro l'ho scoperta, prima abbiamo già parlato, cioè, anche per scoprire nuovi artisti, cioè, qualcosa di nuovo, posso andare, beh, io oggi mi sento così, ascoltiamo cosa mi offre. Quindi, quello che mi aspetto da questo laboratorio è che parlate di un sacco di idee, che rinventate un sacco di cose, è che, insomma, che potete applicare questa vostra passione che sicuramente avrete per la musica, per il mercato discografico, per la produzione, per, insomma, quello che volete fare, la promozione, lo potete sicuramente insieme, insomma, riscoprire, decidere delle strade da fare, anche qua, anche in piccolo, che sono promettentissime al momento. Quindi, passo la parola a Daniela a questo punto, mi fermo un po', perché io voglio capire come è nato, cos'è questo progetto, non potrò stare qua tutto il pomeriggio, però sicuramente buon apprendimento e buon divertimento, innanzitutto. Ciao a tutti, io sono Daniele Novaga e grazie per avermi invitato in questo contesto. Mi trovo a mio agio perché, proprio a partire dalla necessità di fare qualcosa dal basso, io mi sono mosso e a partire dalla mia passione per la musica ho realizzato, insieme a quattro amici, quella che è diventata un'impresa e il mio lavoro, cercando, insomma, di partire dall'Italia, dalla periferia dell'impero, per sfidare il mondo e vedere se c'era l'opportunità, attraverso questa nuova modalità di ascolto che abbiamo introdotto, di promuovere artisti che magari all'interno del panorama discografico mondiale avevano poco spazio. Quindi, niente, io sono il fondatore di Stereomod e quindi, mio malgrado, sono un imprenditore. Ancora non mi ci trovo a mio agio dopo cinque anni con questa parola, però si tratta di questo, perché poi Stereomod è diventata un'impresa, un'azienda che ha contato più di 15 dipendenti sia in Europa che negli Stati Uniti che spesso reclutavamo fra i nostri fan. Però sono soprattutto un appassionato di musica. Fin da piccolo mi dilettavo a fare le cassettine per andare al mare, per la mia ragazza, per la compagna di banco. Insomma, quindi c'è una certa continuità nella mia storia nell'aver lanciato questa idea. Però, prima di parlarvi di Stereomod, della mia esperienza con questo servizio, e di illustrarvi le caratteristiche con cui è stato concepito, visto che si tratta del primo laboratorio, volevo fare un attimo un excursus storico su quello che è successo alla musica negli ultimi 15 anni, che sicuramente servirà anche per gli incontri successivi, perché da vent'anni a questa parte c'è stata una delle più grandi rivoluzioni che l'umanità ricordi, a partire dall'invenzione magari della stampa. È stata la rivoluzione di Internet, che nella musica ha trovato il suo volano, il suo laboratorio, il suo campo di sperimentazione più avanzata, la sua avanguardia, più che nel video, più che nella gestione delle news, e addirittura più che nella pornografia, che spesso è all'avanguardia per proporre soluzioni che vengono adottate poi dal mercato. Quindi poi successivamente appunto vi illustrerò come funziona Sterewood e come si colloca all'interno di questo contesto. E poi se rimarrà del tempo, visto che insomma uno degli obiettivi dell'iniziativa è promuovere la propria arte, la propria creatività, vi parlerò di come realizzare un'impresa da zero, magari troppo sfidante, però con magari dei piccoli suggerimenti che vengono dalla mia esperienza che possono essere utili sia per lanciare un'impresa di qualunque tipo, magari in ambito web, io sono più competente in ambito musicale, sia per lanciare la propria band e per il proprio progetto discografico. Perché questo? Perché ci sono degli elementi comuni a queste cose, nel senso che oggi il musicista purtroppo o per fortuna non deve essere solo il creativo che si metta a scrivere canzoni, quella è la base della sua arte, quella non gliela tocca a nessuno, ma è necessario che il musicista dedichi spazio anche alla propria promozione e lo faccia in prima linea, in prima persona, perché oggi abbiamo veramente la possibilità di travalicare l'intermediazione di organismi come le etichette discografiche, magari o le major, o le radio, o la televisione, andando direttamente a dialogare con i nostri potenziali fan. E oggi, in un contesto, oggi nel 2014, ma anche nel 2009, ai tempi del lancio di Sterewood, i nostri fan sono già là fuori, perché abbiamo la possibilità di essere connessi direttamente col mondo grazie alle nostre nuove tecnologie. Quindi, ok, partirei con questa storia e non parto proprio dal grammofono, ma parto dal CD, dall'epoca del CD. L'epoca del CD è il paliotitico della rivoluzione digitale, perché il CD ha segnato già un primo passaggio dall'analogico al digitale, quindi dal vinile di cui parlavamo prima, che sta tornando in auge accanto ai tradizionali MP3, allo streaming, e permetteva già una frammentazione dei brani in tracce che potevano essere selezionate, potevano essere mandate random oppure programmate. Quindi, l'epoca del CD, come vedete da queste immagini, insomma, noi per procurarci musica negli anni 90 andavamo alla ricerca dei nostri artisti preferiti, magari avevamo un artista preferito e, insomma, era difficile reperire tutta la discografia, anche perché ogni CD costava 30.000 euro, ricorrevamo magari ai noleggiatori di CD, penso che... adesso vedo... 30.000 euro? Eh? 30.000 euro? Ah, ho detto 30.000 euro, scusate. No, 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 no. Non mi sono forse... Sì, magari il... Ok, scusate. Quindi, non so, anche per... vedo ragazzi che sicuramente sarete nati dopo gli anni 90, voi siete dei nativi digitali e magari non siete passati attraverso il CD, sapete già cosa trovare, dovete dover reperirlo, siete già immersi nella musica, mentre noi, un po' più anziani, insomma, dovevamo cercarcela, dovevamo cercarcela, il nostro ecosistema, quindi era fatto di CD, di vinili, di riviste dove andare a trovare riferimenti o le foto dei nostri artisti. Io ricordo che, per esempio, ero un grosso appassionato di musica alternativa, soprattutto di underground americano, e ricordo che, ad esempio, per vedere il volto della mia band preferita di quell'epoca, i Sonic Youth, dovevo aspettare, per sbaglio, di vederli su MTV la notte alle 2, su Alternative Nation, oppure andare a aspettare la domenica sera su Video Music, che c'era adesso Indies, di Attilio Chirilloni, non so se qualcuno se lo ricorda. Quindi, insomma, in quel momento il paradigma era quello della scarsità di musica, nel senso che la musica non viaggiava su supporto digitale, era legata a un supporto fisico, era reperibile, ma era limitata. Mentre oggi siamo immersi in un mondo che ci offre già musica, e non costa 30.000 lire un CD. Possiamo attingere a tutta la musica che vogliamo, per esempio su Spotify abbiamo 20 milioni di brani a disposizione, in un clic o semplicemente pagando 10 euro al mese. Quindi, insomma, passiamo quindi dal paradigma della scarsità a quello dell'abbondanza in questi giorni. per circolare gli album comunque avevano bisogno di un supporto fisico, e quindi avevano bisogno di costi di produzione del supporto fisico, costi di distribuzione, costi di stampa, costi di promozione dell'artista, e l'intermediatore era la casa discografica, sia essa indipendente, sia le major come Sony, BMG, EMI. Che succedeva? Le case discografiche negli anni 90 facevano tantissimi soldi. Se vi ricordate il fenomeno del grunge, con l'esplosione di Nevermind, dei Nirvana, a un certo punto le case discografiche cominciarono ad attingere anche alla musica indipendente, a tutta la musica che arrivava da Seattle, e cominciarono a vedere che anche al di fuori delle classifiche potevano pescare artisti che potevano diventare i futuri Nirvana dalle uova d'oro. Successivamente poi, quando passarono i vari Stone Temple Pilots, i vari gruppi clone della prima ondata, le major videro che potevano fare ancora più soldi con le boy band, per esempio, vi ricordate sicuramente le Spice Girls o i Backstreet Boys. Quindi era il 1997, i Radiohead pubblicavano Ok Computer e sui computer cominciava a viaggiare internet, agli albori. Erano gli albori della rivoluzione digitale e gli artisti, i grandi artisti, già percepivano il futuro. Tanto che i Radiohead tirarono fuori un disco con questo titolo percependo quello che sarebbe arrivato in futuro e che poi loro sarebbero stati molto abili a sfruttare. In quel momento non solo le major cominciavano a fare... non solo le major andavano su e giù per Wall Street allegrando i finanzieri con la musica, ma c'erano anche le prime start-up. Le prime start-up, una di queste era CD Now, che non faceva altro che sfruttare internet per vendere CD per corrispondenza. Quindi ancora non si percepiva la forza di internet, ancora si era legati al supporto materiale del CD, ma si usava internet come ampliamento per potenziare un modello di business precedente. Con l'arrivo di internet ci fu la prima percezione che la musica poteva viaggiare svincolata da un supporto fisico, poteva viaggiare su un computer, poteva essere trasmessa da computer a computer senza essere spedita, senza essere legata ad un supporto fisico. Nel 1998 ci furono le prime prove tecniche di quella che poi chiamiamo musica liquida, dal momento che appunto viaggia in rete, nell'etere, è fatta di bit immateriali, e furono lanciate da due aziende che furono agli albori della ricerca di due filoni che si accavallarono durante questi vent'anni, il filone dello streaming e il filone del download. Lo streaming praticamente consiste nel fatto che non abbiamo il file fisico sul nostro computer, ma viene scaricato progressivamente da un server esterno e dopo la riproduzione non abbiamo più a disposizione il file, mentre il download è legato proprio ad avere sul proprio pc il supporto fisico, scaricarlo e riprodurlo. Agli albori di questa storia ci furono queste due aziende, Liquid Audio e Real Networks, che poi sarebbe diventata Real Audio, e sicuramente qualcuno di voi ricorda quest'icona. Qual era il presupposto per la musica liquida? l'invenzione dell'MP3. Nel 1995 era stato lanciato questo formato che è stato affinato con l'AMPEG 2 nel 1998 e l'innovazione tecnologica consisteva nel ridurre lo spazio occupato dal file audio tagliando le frequenze che non potevano poco percepibili dall'orecchio umano. questo permetteva per esempio rispetto a un file WAVE che è quello del CD di arrivare a comprimere il file ridurlo a un undicesimo del file originario e questo per internet fu un presupposto epocale perché a quei tempi ancora non c'era la banda larga e bisognava viaggiare leggeri. Quindi l'MP3 è il supporto anarchico immediatamente fruibile dalla rete su cui poi viaggerà la rivoluzione musicale digitale. In quel momento per prendere possesso dei computer mancava solo un software che fosse in grado di leggere agevolmente i file MP3. Fu lanciato ovviamente da un giovane 19enne e messo gratuitamente in rete è il mitico Winamp che è un'azienda che ha chiuso solo due anni fa credo che era appunto un software in grado di leggere gli MP3. Ops sono andato troppo avanti. quello che successe subito dopo il lancio dell'MP3 e il lancio di Winamp fu che i ragazzi soprattutto dalle università americane cominciarono a fare con gli MP3 delle cose inaudite nel senso che sfidarono il sistema in che modo cominciarono a mettere MP3 sui loro siti e a linkarli a metterli a disposizione di tutti gli utenti e questo rompeva il monopolio delle case discografiche che erano le uniche a mettere in circolazione la musica si passava necessariamente da loro e dal supporto fisico e materiale su cui la musica viaggiava nel momento in cui questi ragazzi mettevano in rete questi file MP3 cambiava il senso della fruizione musicale perché venivano poste le basi per un accesso alla musica dal basso piuttosto che dall'alto via broadcast come veniva fatto dai media tradizionali dalla televisione dalle radio o dalla stessa MTV quindi già nel 99 su internet sui motori di ricerca Google era ancora in garage c'era l'ICOS MP3 era la parola più cercata in rete addirittura più di sex e erano a disposizione in rete più di 500.000 MP3 il problema era rintracciarli era difficile trovarli perché erano volatili bisognava avere i link venivano cambiati continuamente gli indirizzi al solito un altro giovane innovativo pioniere di questa storia scrisse 330 kilobyte di codice per dare a questi ragazzi la possibilità di accedere agevolmente agli MP3 questo software era Napster e Napster fu la vera grande rivoluzione della fruizione digitale della musica su internet perché fu il serbatoio della musica a cui attingere c'era tutto a disposizione ciascun utente praticamente si collegava metteva in condivisione i suoi file MP3 con tutto il mondo e era al contempo fruitore e fornitore di contenuti quindi insomma la musica cominciava a diventare come si passa dalla metafora del supermercato alla metafora dell'acquedotto come qualcosa che è lì a disposizione che io devo solo prendere ovviamente la storia di Napster fece letteralmente incazzare le case discografiche che non ci videro più perché giustamente vedevano giustamente o ingiustamente nel senso che di solito tutte le innovazioni sono contrastate da chi detiene il potere e vedevano Napster come qualcosa che metteva in pericolo il proprio business e fecero di tutto per contrastarlo tanto che nel 2001 Napster chiuse però per le case discografiche fu una vittoria di pirro come si dice perché chi usa un software ne nascevano tantissimi altri forse qualcuno ricorda i vari Kazai Mule ancora oggi BitTorrent WinnieMX ci fu quindi l'esplosione del file sharing il mondo musicale cambiava le case discografiche cercavano di ostacolare il cambiamento mentre dalle università americane dai nativi digitali nascevano nuove modalità di fruizione della musica anche se non era ancora arrivata il potenziamento di questa rivoluzione che era il web 2.0 con la nascita dei social network dei blog degli mp3 blogs o delle net label che avrebbero amplificato il fenomeno ma l'avrebbero cambiato di segno dal momento che in quel momento la musica si parlava di condivisione e di estrema libertà di condivisione di far arrivare i propri brani da un punto isolato del mondo a tutto il villaggio globale quindi come vi dicevo cambia completamente il paradigma con Napster e con i vari siti di file sharing e la rivoluzione più grande in questo nuovo paradigma è soprattutto la libertà di scelta con Napster e con il file sharing non dobbiamo più seguire non dovevamo più seguire i dettami del palinzesto dell'heavy rotation di MTV che magari dopo aver scoperto il grunge mandava in rotazione solo video di boy band oppure i palinzesti radiofonici che mandavano magari in Italia solo musica italiana qualche autore straniero in più eravamo completamente liberi di fare le nostre ricerche e di allargare la nostra competenza musicale di condividerla a partire dai supporti immateriali su cui la musica cominciava a viaggiare e tutto poteva essere reperibile a portata di mano rispetto al passato non dovevamo scrivere ad un distributore americano per farci avere l'ultimo disco di Dano Sar Junior era lì per noi dovevamo solo prendercelo questo come dicevo come anticipavo prima costitui anche l'apertura di nuove possibilità per gli artisti che avevano in mano la possibilità di tralasciare ogni intermediazione delle case discografiche dei palinzesti generalisti per andare a diffondere la propria musica online immediatamente mettere a disposizione di un mercato potenzialmente molto più grande di quello di cui disponevano prima che internet esistesse ovviamente questa rivoluzione mise in mano a tantissimi ragazzi strumenti per farsi in casa la propria musica questo è un po' a scapito della qualità nel senso che tutti potranno fare musica però ovviamente non basta un computer per essere un musicista quindi insomma le nuove possibilità sono mediate anche da questa da questa limitazione le le measure ovviamente ostacolano il cambiamento mentre le piccole etichette indipendenti non sono tante favorevoli al cambiamento perché questo cambiamento mette in atto la possibilità di usufruire della musica in modo gratuito quindi tagliando i loro ricavi però sono comunque dalla parte della musica fanno capire ai loro utenti che la musica viene prima dei guadagni e cominciano ad esplorare anche loro nuove possibilità di promozione per esempio una indipendente new yorkese la Matador Records mise a disposizione degli utenti che acquistavano un vinile la possibilità di scaricare direttamente gli mp3 quindi cominciavano a giocare con queste nuove modalità cambia tutto cambia tutto nel momento in cui entra in campo Steve Jobs che con la sua Apple cambia il rapporto anche fra le measure e questo nuovo mondo di musica liquida che si affacciava perché Steve Jobs lo fa a partire da questa innovazione tecnologica che era l'iPod che era in grado di contenere in poco più di una scatolina tutta la musica che magari avevamo ascoltato fino a quel momento ricordate che quando magari andavamo in gita o facevamo le nostre vacanze facevamo i cd facevamo le cassette però non bastava mai non bastava mai lo spazio ne dovevamo fare 3-4 sull'iPod mettiamo tutta la nostra discografia completa e l'abbiamo sempre a disposizione non c'è bisogno non c'è limite a quello che ci possiamo mettere questo anticipa quello che Steve Jobs fece con con le measure convince le measure a vendere la musica su internet cosa che le grandi case discografiche avevano sempre ostacolato e ci mette qualche anno ci mette più di due anni la cosa non è non è facile però convince le 5 sorelle quindi Sony BMI adesso non me le ricordo tutte le convince tutte a mettere i propri brani disponibili su iTunes ma a pagamento quindi dimostra che se si perseguono le esigenze di questi nuovi nativi digitali che utilizzano musica su internet facendo qualcosa ad hoc per loro gli utenti sono ancora disposti a pagare la musica perché iTunes è un negozio online che cavalca il cambiamento e quindi va verso il cambiamento in qualche misura lo ostacola però comunque lo abbraccia e gli passa una patina di coolness la prima un altro effetto di questo cambiamento fu il passaggio dal dal concetto di album al concetto di singola canzone la musica in passato ha sempre viaggiato sul concetto di album l'artista faceva una selezione di brani l'ordine di riproduzione dei brani era studiato negli anni 70 questa cosa presa una piega abnorme con i concept album magari i doppi album la cui riproduzione era studiata per filo e per segno e le measure fanno soldi appalate con questo concetto perché io non posso andare spingono l'album semplicemente perché costa di più piuttosto che magari il 45 giri o il singolo Steve Jobs lancia la possibilità di acquistare un singolo file una singola canzone dall'iTune Store cosa che era già stata messa a disposizione da Napster e dai singoli mp3 se ascolto una canzone di radio che mi piace non è necessario che io mi compri l'intero cd non so a quanti di voi è capitato ascoltare cioè comprare un cd perché avevano sentito una canzone che gli piaceva poi tutte le altre canzoni insomma erano abbastanza inascoltabili del disco a me è successo per esempio con vabbè non lo dico no ricordo il disco degli Scorpions con Wind of Change che era una canzone magnifica però il resto insomma era un bel disco di heavy metal però insomma non al pari di quel brano quindi ecco come dicevamo Steve Jobs nel 2005 lancia addirittura l'iPod Shuffle che distrugge semplicemente l'ordine di riproduzione studiato dei brani e lo elegge a nuova fruizione musicale non ho bisogno nemmeno di vedere di che brano che brano sto ascoltando ma proprio la tecnologia mi suggerisce direttamente l'ordine di riproduzione casuale e ogni volta è diverso tanto che Apple lanciò l'iPod Shuffle con questo claim life is random però come dicevamo prima la rivoluzione non era ancora compiuta la nascita dei social network dei blog e di strumenti di condivisione e potenziamento della conversazione globale mise veramente al centro l'utente che diventava sia fruitore che produttore di contenuti e ai margini del web 2.0 per la musica è importantissimo la nascita degli mp3 blogs dei blog su cui si discute di musica e c'è la possibilità anche di ascoltare musica perché questi ragazzi che parlano della propria musica e condividono le proprie passioni a partire sia dal non so dal crowd rock tedesco degli anni 70 o da cose ancora più oscure allegano su questi inseriscono su questi su questi servizi dei file mp3 che possono essere scaricati e ascoltati il primo esempio di rivista online di successo è stato pitchfork che è stata una fanzina che è nata su carta nel 95 portata direttamente su web dal suo fondatore e che nel 2004 fece fece sobbalzare il mercato perché lanciò da solo il successo degli arcade fire con il loro primo disco con funeral successe che improvvisamente i negozi di dischi si ritrovarono a constatare che questo disco insomma andava a ruba cosa era successo semplicemente il pitchfork aveva pubblicato una recensione magnifica di questo disco gli aveva dato 9,7 un voto molto alto la voce aveva cominciato a circolare in rete e gli arcade fire furono lanciati da questo tam tam da questo word of mouth da questo passaparola virtuale gli arcade fire era una band indipendente che era scritturata per merge che era un'etichetta indipendente del north carolina e che e che il disco faceva faceva così almeno copriamo un attimo ci sentiamo un brano così e anche Prince intuiva questa grande potenzialità ma era uno fu uno dei primi a lamentarsi della possibilità che qualcuno utilizzasse gratuitamente la propria musica questo è il contrattare di questa rivoluzione tanto che nel momento in cui uscì Napster ci fu un grosso dibattito fra i musicisti ci fu una grossa polarizzazione fra chi era favorevole alla libera circolazione e condivisione della musica e chi vedeva il pericolo di portarsi via la propria arte gratuitamente questa polarizzazione è semplificata da Chuck D dei Public Enemy e da Lars Ulrich che è il batterista di Metallica che insomma era incazzato nero con Napster tanto che disse testualmente è da un paio d'anni ormai che la gente scarica gratuitamente musica protetta da copyright pensando di averne il diritto ma non si tratta di un diritto è un privilegio un privilegio reso possibile solo dall'industria discografica che ha lasciato che la Beto Cudinese diffondesse senza controllo mentre Chuck D e quelli che sono a favore di questa nuova tecnologia di questa condivisione orizzontale del sapere musicale dice questo credo che gli artisti dovrebbero abbracciare Napster dovremmo pensare adesso come una nuova tipologia di radio uno strumento promozionale che può aiutare le band che non hanno l'opportunità di avere la loro musica suonata sulla radio o su MTV quindi ci sono molti artisti che intravedono le potenzialità che internet gli mette in mano dopo i primi albori della rivoluzione digitale la rete e l'attività degli utenti fa sì che alcuni artisti beneficino direttamente di quanto accade sul web ricordate sicuramente tutti MySpace che era appunto una sorta di blog in cui l'artista poteva comunicare con i propri fans inserendo direttamente l'MP3 online facendo in modo così di mettere a disposizione di tutto il mondo di tutti i potenziali utenti i propri file successe per esempio che da MySpace uscirono fuori in modo molto eclatante questi due artisti gli Arctic Monkeys che praticamente si ritrovavano a suonare a Glastonbury con la gente che cantava le loro canzoni prima che a memoria prima che uscisse il loro album semplicemente perché loro avevano messo il loro demo su MySpace e la voce aveva cominciato a girare fra gli utenti oppure Lily Allen che dopo diversi tentativi pubblicò il suo album su MySpace e il suo smile diventò un tormentone della rete ma cominciava ad avanzare YouTube un esempio di come gli artisti sfruttarono queste nuove tecnologie per avere molta visibilità fu quello fatto fu il video creato dagli OKGO che erano su etichetta IMI ma già da due anni però insomma non si vedevano troppi risultati che fecero senza dirlo alla loro alla EMI dissero facciamo un video low cost proviamoci e lo mettiamo in rete su YouTube il video è questo qui e questo video dopo il lancio è stato il video più visto su YouTube fino a quel momento e gli OKGO sono diventate delle web star e i loro dischi hanno cominciato a vendere e i loro live hanno cominciato ad avere molta più affluenza lo conoscete gli OKGO? magari questo video ve lo ricordate perché è stato proprio è un semplice balletto fatto in casa nel loro giardino lanciarono questa operazione che insomma fu abbastanza incredibile perché avevano finito la loro collaborazione con il contratto con la loro etichetta discografica sempre con la EMI e decisero di lanciare in versione MP3 il loro nuovo disco in Rainbows lo lanciarono secondo due modalità una era un cofanetto di lusso che costava mi sembra 40 sterline che doveva essere spedito arrivava magari 20 giorni dopo la richiesta per chi non ce la faceva ad aspettare loro mettevano in download sul proprio sito il loro album in file in formato MP3 la vera rivoluzione era che erano gli utenti a decidere quanto pagare no really it's up to you questo era quello che compariva all'acquisto del sito quindi tu eri libero di pagare un euro il nuovo disco di Radiohead o magari 5 dollari era completamente una tua scelta quanto pagare questo disco i Radiohead sapevano che comunque la loro musica avrebbe circolato sul web prima ancora che uscisse l'album ma compresero che in quel momento i loro fan non erano da attaccare ma erano da comprendere e da bisognava intrecciare relazioni dirette e coltivare un rapporto diretto e fiduciario con i propri fan i risultati dell'operazione commerciale di Radiohead che fu proseguita tra l'altro nel momento in cui prima dell'uscita nel negozio del CD ufficiale i Radiohead registrarono dei video del loro live in studio e lo misero su Current TV i risultati non ci sono noti nel dettaglio quindi non sappiamo quanto gli è convenuta commercialmente nello stretto quest'operazione però sappiamo che questo questo meccanismo questo lancio up to you del del disco in formato digitale gli tornò grandissima visibilità amplificò l'uscita di quest'album e fece sì che molta più gente andasse a vedere i loro live quindi la dimensione la dimensione non si trattava più solo di vendere dischi ma di costruire un rapporto fiduciario con i propri fan con la propria base e di guadagnare magari non dalla vendita della propria musica ma da tutto l'indotto quindi soprattutto dai live tanto che per esempio i Radiohead nel tour di In Rainbows che se ricordate bene era un tour che si vantava anche di essere eco sostenibile nella data di San Francisco fecero più di 60.000 presenze dove nel passato prima di quest'operazione di solito assistevano solo 20.000 spettatori quindi triplicarono i loro fan almeno dal vivo stessa operazione dei Radiohead stesso intuito verso le nuove tecnologie che possono essere sfruttate per la propria visibilità e per costruire un rapporto diretto con i fan è quello di Trent Reznor The Nine Inch Nails che fa un'operazione simile nel suo anno zero nel 2007 lancia un quadruplo disco di Avanguardia in quattro versioni alcune una versione che costava 5 dollari e l'altra in un cofanetto deluxe l'operazione commerciale va abbastanza bene fa parecchi soldi e questo lo porta a giocare nuovamente con le nuove tecnologie con questa nuova modalità di relazionarsi ai fan e nell'anno successivo pubblica e distribuisce gratuitamente sul suo sito il suo nuovo disco The Sleep ma appena finito il download l'utente il fan ha subito vicino la possibilità di acquistare i biglietti dei propri live del live dei Nine Inch Nails anche questa operazione va a buon fine e dimostra come Radiohead e Nine Inch Nails seppero utilizzare le nuove tecnologie internet web 2.0 e la musica liquida per rivalutare la propria immagine e saltare la mediazione delle case discografiche con i propri fan quello che dice Trent Reznor a supporto è penso sia giusto che il pubblico sostenga economicamente gli artisti dopo tutto noi dedichiamo la nostra vita a produrre la miglior musica che possiamo per me è stata una sofferenza vedere i cambiamenti dell'industria e quindi percepire che i suoi fan possono scaricare la sua musica per cui lui suda tutti i giorni anche gratuitamente ma dovrei essere arrabbiato nel sapere che il pubblico vuole ascoltare tutta questa musica che i fan sono talmente appassionati che fanno di tutto per mettere le mani sulle canzoni anche due settimane prima della loro uscita ufficiale no io voglio che sia proprio così negli anni successivi sono tanti gli artisti che provano operazioni simili ricordo anche in Italia tentativi di mettere in free download i propri dischi ovviamente se sei se ti chiami Radiohead è un pubblico vasto l'operazione ha sicuramente un ritorno immediato se sei un artista inferiore magari devi lavorare di più però ci sono diversi casi c'è stato un meccanismo che si è si è fatto avanti nel web negli anni recenti che è quello del crowdfunding di cui si sente sempre più parlare il caso più eclatante di crowdfunding ossia finanziamento proveniente dal basso proveniente dai propri fan è quello di Amanda Palmer che era la cantante delle Dresden Dolls che chiese ai suoi fan su Kickstarter dei soldi per lanciare il proprio produrre il suo nuovo album mi sembra che la soglia che avesse chiesto fosse di pochi migliaia di dollari insomma ma la superò abbondantemente perché i fan gli detero più di un milione di dollari lei si ritrova a disposizione per produrre il suo nuovo disco un milione di dollari proveniente dai suoi fan quindi non so se conoscete Kickstarter è questa piattaforma su cui si possono promuovere i propri progetti ok sapete insomma che si tratta insomma non è ovvio che si raggiungano dei risultati dipende da come sono in grado di relazionarmi col fan e cosa gli do in cambio perché ovviamente per delle donazioni più basse magari l'artista regala gli mp3 del futuro disco per donazioni più alte magari Amanda Palmer per esempio per mille dollari mi sembra che andasse a cena con il fan che versava quella cifra quindi ci sono diverse modalità che sono tutte demandate all'iniziativa dell'artista quindi questo nell'ottica di trovare sfruttare saper sfruttare queste nuove tecnologie queste nuove possibilità messe in campo dalla rete per promuovere la propria arte però magari ci siamo insomma siamo andati oltre la data di nascita di Steremon che era il 2008 e possiamo tornarci parlando di quello che succede all'altro filone della musica su internet che abbiamo parlato finora del download quindi di tutto quello che è successo con il file mp3 scaricato e riprodotto fisicamente sul computer quello che è successo con Napster e quello che è successo con Steve Jobs che rende legale il download su internet a pagamento e torniamo a parlare di streaming perché grazie al web 2.0 soprattutto grazie a MySpace e a YouTube gli utenti cominciano a familiarizzare con lo streaming e quindi con il download progressivo di musica e di video il fatto che da partire diciamo che nel primo decennio la musica liquida la musica su internet viaggia soprattutto per download con l'estensione della possibilità di accedere alla rete con l'abitudine ad essere sempre connessi e grazie soprattutto all'immediatezza dello streaming che comunque non richiede dei tempi di scaricamento del file lo streaming prese sempre più piede e su internet la musica cominciò a viaggiare in streaming e veicolata soprattutto dalle web radio come Deezer o Spotify che mettevano a disposizione degli utenti tutta la musica del mondo tutto quello che riuscivano a contrattare con major indipendenti in che modo mettendola sotto abbonamento quindi se prima negli anni 90 ero io che andavo a cercarmi della musica pagando per possederla via supporto fisico adesso pagando semplicemente 10 euro al mese o anche di meno ho a disposizione tutta la musica del mondo come se ci fosse un servizio come se la metafora è quella dell'acquedotto come se avessi in casa il rubinetto e aprendolo ho a disposizione tutta la musica del mondo pago l'abbonamento e io dentro casa dentro il mio pc sul mio telefonino ho la possibilità di ascoltare tutto il problema nel momento in cui si compie questo passaggio dal paradigma della limitazione al paradigma dell'abbondanza della disponibilità illimitata di musica è come dar senso a queste scelte come dar senso a 20 milioni di brani qual è il criterio che mi spinge a trovare nuova musica come faccio a scegliere all'interno di questa scelta illimitata che mi si presenta voglio dire negli anni 90 magari la limitazione era offerta dal fatto che avevo a disposizione spendevo 30 mila lire per un cd e me lo ascoltavo e quello era adesso invece su spotify ho la possibilità con 10 euro di scegliere fra 20 milioni di brani quale scelgo come faccio a tracciare linee di navigazione è per questo che all'interno di queste tecnologie sono nate le tecnologie di recommendation ossia il fatto che dei software ci suggeriscono cosa ascoltare tracciando i nostri ascolti tracciando le nostre abitudini musicali partendo da quello che ascoltiamo sono in grado di suggerirci nuovi artisti che magari noi non conosciamo attraverso degli algoritmi è quello che ha cominciato a fare per esempio Pandora nel 2000 una radio famosissima negli Stati Uniti che qui in Italia è stato possibile ascoltare solo per un breve periodo dal momento che c'era un problema con i diritti per quanto riguarda l'Italia con SIAE e di Last FM Pandora nel 2000 lanciò questo progetto Music Genome Project lanciato dal suo fondatore Tim Westergreen che faceva sì che una serie di persone di etnomusicologi e musicologi professionisti taggassero tutti i brani del web tutti gli mp3 e li connotassero con dei descrittori che succedeva che a partire da questa descrizione l'utente poteva inserire che voleva ascoltare una stazione personalizzata simile che non so a Hyper Jam e grazie a questa tecnologia grazie al fatto che l'utente decidesse se ogni brano gli piaceva o no poteva costruirsi la sua propria radio personalizzata la stessa cosa avveniva su Last FM ma a partire non da un team di musicologi quindi di esperti ma a partire dalla saggezza degli utenti quindi dal crowd tagging su Last FM erano gli stessi utenti che decidevano se un brano era rock se era sad se era degli anni 90 e quindi riproduceva propri meccanismi collaborativi del web 2.0 oltre ad essere a inserire il crowd tagging Last FM inseriva anche una tecnologia che era quella dell'audio scrolling inserendo un software che praticamente spiava ciò che gli utenti ascoltavano magari su Windows Media Player inserendo il cd nel pc quindi a partire da questo software Last FM era in grado di proporti radio personalizzate canali radio personalizzate con una playlist fatta degli artisti che magari ti piacevano ma che ancora non conoscevi quindi di incoraggiare la scoperta di nuovi brani attraverso i software attraverso l'intelligenza artificiale ma anche attraverso la saggezza degli utenti che veniva mediata e che quindi risultava abbastanza calda diciamo questo ve lo racconto perché questo insomma è lo scenario in cui ci trovavamo nel momento in cui abbiamo progettato Stereomood quindi ecco i nostri preferiti erano appunto iMachine iPEM quella radio che era un aggregatore di mp3 che provenivano dai blog e soprattutto Last FM di cui eravamo completamente innamorati magari facciamo una pausa adesso ok così poi vi racconto direttamente l'esperienza dei Stereomood di cui eravamo di cui eravamo di cui eravamo di cui eravamo